Professor Giustino Parruti, aumentano i casi di Covid, aumentano i casi di persone in quarantena, tant'è che si pensa, per non bloccare l'Italia, di diminuire i giorni di quarantena. Le che ne pensi? Dunque, per quanto riguarda tutti coloro che hanno avuto la terza dose, i dati che abbiamo dalle evidenze disponibili dimostrano che la durata dell'infezione e della contagiosità è in generale molto molto più bassa. Per cui l'idea di poter portare la contumacia da 10 giorni a 7 giorni è un'idea assolutamente funzionale alla buona azione quotidiana. In generale, penso che si possa fare senza peggiorare in nessun modo la diffusione del virus. Parliamo dei casi in Abruzzo e di questa variante Omicron. Qual è la situazione e che cosa si rischia? La situazione è abbastanza complessa, ma la potremmo provare a definire così. Questa variante tendenzialmente non sembra molto più aggressiva delle precedenti, ma sicuramente molto più contagiosa. Quindi che cosa comporta questo fatto? Comporta che c'è anche fra la popolazione vaccinata, magari da un po' più di tempo, un maggior numero di infetti. Per cui i rischi maggiori, cioè quelli di andare in rianimazione, sono quasi esclusivamente nella popolazione non vaccinata. Ma la possibilità di avere forme di polmonite anche abbastanza significative sale in una fascia della popolazione vaccinata. Per cui l'impiego delle risorse probabilmente potrebbe aumentare nelle prossime settimane. Il sistema sanitario regionale è pronto a fronteggiare questo? Assolutamente sì. Abbiamo tutto ciò che deriva anche dalla preparazione che abbiamo acquisito dalle precedenti ondate. Abbiamo tutte le strutture che sono state distribuite in tutta la regione, tutte e quattro le province hanno unità di intensiva, di subintensiva e reparti di degenza preparati ad hoc. Abbiamo un coordinamento regionale che è sicuramente molto valido e abbiamo una unità di crisi che ci guiderà nella decisione delle risorse che man mano dobbiamo incrementare a favore del Covid.